È passata un'altra settimana, è passata fuori, è passata in carcere. Che cosa è successo? È successo che per ammissione dello stesso Ministro Bonafede, che ha relazionato su questo al Parlamento, un numero esiguo di detenuti è uscito dal carcere in virtù delle nuove norme introdotte con il cosiddetto Decreto Cura Italia. Bisogna fare molto di più. Noi continuiamo a dire che se almeno 10.000 detenuti non usciranno al più presto dalle carceri italiane, noi non saremmo in grado di garantire una sicurezza sanitaria non solo per le persone detenute, ma per i poliziotti penitenziari, per tutti gli operatori che lavorano in carcere e anche per le persone fuori, perché potremmo trovarci, se il virus entra in un istituto penitenziario e si diffondesse così rapidamente, potremmo trovarci con un certo numero elevato di persone che tutte insieme vanno a gravare ulteriormente sul sistema sanitario nazionale. Dall'inizio di marzo circa 3.000 persone a normativa invariata sono uscite dal carcere. La magistratura di sorveglianza si è resa conto dell'emergenza sanitaria che stava arrivando e ha usato la normativa che aveva a disposizione, interpretandola in una maniera estensiva, più di prima, in maniera da poter mettere fuori le persone. Questo ancora non basta. Noi abbiamo presentato insieme ad un ampio cartello di organizzazioni delle nostre proposte di emendamenti al decreto cura Italia da poter essere usate in fase di conversione, volte principalmente ad eliminare una serie di paletti alla concessione della detenzione domiciliare per chi ha ancora poca pena da scontare, per chi ha pochi mesi può andarli a scontare a casa propria in un momento così drammatico come quello che stiamo vivendo. Primo fra tutti eliminare la subordinazione della concessione della detenzione domiciliare alla disponibilità del braccialetto elettronico, ma anche un attenzionamento verso quelle persone più deboli di salute, la cui salute potrebbe essere ulteriormente aggravata dal coronavirus. Antigone ha messo a disposizione una task force di avvocati, di esperti che in queste ore sta lavorando ad aiutare le decine e decine di persone che si rivolgono a noi, parenti di detenuti, a presentare istanze di detenzione domiciliare. Chi in queste ore ha parlato di un indulto mascherato mente sapendo di mentire e farlo in questa fase è davvero criminale.